L'Olimpia Gorizia ha vinto il primo set 25 a 20 di questo scontro diretto contro la Vesani, Isola della Scala Padova e adesso si appresta a servire con Terpin che nella prima frazione di gioco come ci si aspettava, è stato un grande protagonista. Hlede si affida a Comians, non riesce a chiudere la Vesani, cerca un mani fuori con Sgro, molto ben piazzato però Plesnitzar si gioca ancora, ancora Sgro, ancora ben piazzata la difesa Goriziana e poi si chiude, ottimo questo primo punto che denota grande concentrazione Sandro. Sì, difatti due belle difese a terra, costruite, palla alta e l'Erneterfing è riuscito a metterla nel cantone. Bene, questo è l'Olimpia che ci piace, questo è il volley che ci piace vedere, il primo set è andato in maniera positiva a favore di Gorizia però non è stato particolarmente frizzante sul piano di gioco e anche rispetto al ritmo. Un gioco un po' lento, qualche errore di troppo, speriamo che appunto questa seconda frazione di gioco ci regali qualche azione più spumeggiante. Nel frattempo la palestra di Viale 20 Settembre si è riempita, sono arrivati anche gli ultimi ritardatari e siamo sul 1 pari. Per la Vesani al servizio Andrea Bosco, a Plesnitzar tenta di ricevere in palleggio una palla che molto probabilmente sarebbe terminata fuori con un po' di indecisione quindi rimedia un ace, 2-1 a favore degli ospiti che servono ancora con Andrea Bosco. Beh finalmente ad animare l'atmosfera, sono arrivati anche i giovani tifosi, si sentono i tamburi, siamo sul 2-2 a servizio per Soglia, uno dei due centrali della formazione di coach Marchesini. Bella la sua bottuta molto tesa, Fribolla adesso per l'Olimpia, Klede si attacca a Paolovic, si affida a Paolovic che la mette a terra variando finalmente un po' il gioco. Sì dobbiamo sfruttare di più i nostri centrali che ne attaccano, non sono male, invece nella squadra avversaria vedo che un centrale loro è un po' in difficoltà. Ancora la battuta per Soglia, stavolta il muro goriziano si piazza male, mani e fuori per Isola della Scala, 3-3. Avvio quindi equilibrato in questa seconda frazione di gioco. Filippo Sgro alla battuta, riceve male, manda direttamente di Lago Rizia. Adesso Alberti attacca in parallela, 3-4. Sembra che Isola della Scala abbia un pochino più di brio in questa seconda frazione appunto. Si gioca con Comians da posto 4, un muro vincente di Paolovic che ha aspettato il tempo giusto per saltare e per bloccare quindi la diagonale di Luca Alberti. Siamo sul 4-4. Al servizio Gastaldo. Buona la sua battuta, non riceve bene l'Olimpia. La Vesani, perdon. Comians gioca bene sulle mani del muro. 5-4. Beh, l'atmosfera si sta un po' scaldando, il gioco anche sembra essersi un po' animato finalmente. Sì, sì, con l'aiuto anche dei nostri batteristi, ragazzi giovani, delle squadre giovanili. Come hai visto anche l'attacco prima, siamo passati sempre attraverso il centro, non riesce ad arrivare e sbandiera un po' sul muro. Sì, chiude male, il muro poco invadente. Sul 5 pari. Ricezione staccata di Terpin. Comians stavolta non passa. Clede si affida a Gastaldo. Non mette giù la parallele. Si gioca ancora. In decisione adesso. Le fila goriziane. Niente di male, per fortuna. Aveva avuto come l'impressione che... Niente, tutto a posto. Semplicemente un'idecisione. Clede chiama formazione. Controlla insieme al secondo arbitro la disposizione dei compagni in campo. È tutto a posto. Si può riprendere sul 5 a 6 a favore della Vesani che per la prima volta in questo match è in vantaggio seppur di una sola lunghezza. Plesnizar ricezione non buona. Palla al limite della portata per Paolovic. Plesnizar in bagger per Gastaldo. Eh, stavolta sbaglia. La manda direttamente in rete sul 5 a 7. Vediamo che Marchesini si rivolge alla panchina e chiede a Rigonat di tenersi caldo. 5 a 7. Ancora Luca Alberti. Buono il suo servizio. Ha una mano, Clede. buona questa scelta. Bene anche Paolovic che chiude verso posto 1 sul 6 a 7. Cosa succede, Sande? No, siamo molto disordinati. Stiamo raschiando azioni ma meno male che l'Isola ci sta dando una mano. Siamo su 7 pari grazie a questo ace di Comians. Marchesini parlotta anche con Vogrig. Ancora un buon servizio per Comians. Si gioca Filippo Sgro regala l'ottavo punto e quindi primo time out tecnico con la Vesani in vantaggio di una lunghezza sull'Olimpia. secondo set si riprende a giocare sul 7-8 a favore degli ospiti a Vesani in vantaggio sull'Olimpia Gorizia di un solo punto ricezione di Terpin che adesso mette le cose in chiaro e riporta la situazione in parità 8-8 Paolovic al servizio Buona la ricezione della Vesani Matteo Roccari riceve agevolmente poi trova anche il maniè fuori sul muro dell'Olimpia che adesso è sotto 8-9 al servizio Andrea Carlino ricezione non buona di Gastaldo ci prova a chlede ad appoggiarla di seconda intenzione verso il posto 4 la sua palla termina out di pochissimo 8-10 per Isola della Scala riesce a tenere in gioco la palla Comians adesso a vita facile l'Isola della Scala Marchesini chiama time out 8-11 si riprende a giocare sul 8-11 a favore dell'Avesani Avesani che sì in questa seconda frazione di gioco sta senz'altro giocando con maggior brio e anche con maggior continuità è anche vero che l'Olimpia dopo un ottimo inizio in questa seconda frazione di gioco sta pasticciando parecchio molta confusione in campo poca lucidità 8-12 adesso fischiata un'invasione nettissima per Soglia per fortuna Isola della Scala sbaglia il servizio e quindi l'Olimpia si riporta sotto sono tre le lunghezze da recuperare adesso Filippe Lede ad andare al servizio speriamo che le indicazioni di Marchesini durante il time out siano servite non sbaglia il rigore per Soglia 10-12 il pubblico si scalda la partita per la prima volta non sembra così scontata Lede ancora la battuta e trova direttamente un ace si guardano in ricezione il numero 12 Matteo Roncari e l'Illibero 11-12 e la Vesani chiama time out 11-12 ancora il servizio Filippe Lede e così per stemperare la tensione insieme a Sandro Corvo mi piaceva osservare che in queste partite casalinghe c'è sempre una grande partecipazione da parte del pubblico finora abbiamo sempre avuto la palestra piena le tribune sempre affollate vuol dire che vuol dire che la gente apprezza i nostri sforzi e anche il bel gioco che finora la squadra ha espresso sicuramente molto bello anche vedere tanti giovani che poi sono appunto i ragazzi che giocano nelle diverse formazioni giovanili delle società che collaborano non volevo stemperare la tensione però nel frattempo mi pare che l'Olimpia si sia distratta ha commesso due ruoli gratuiti un servizio la rete è una recezione pessima nostra speriamo un po' meglio dai sì siamo sul 11 a 14 però per soglia ancora lui la gira verso posto 5 12 a 14 l'Olimpia è lì però deve sempre inseguire Terpin alla battuta serve serve continuità per portare a casa questa seconda frazione di gioco al servizio che termina out veramente di pochi centimetri Marchesini lo invita a non pensarci troppo insomma era una buona battuta la sua andiamo avanti andiamo avanti dice pensiamo alla prossima palla e così deve fare l'Olimpia se vuole restare attaccata a questo set sono tre appunto i punti da recuperare bella la parallela di Gastaldo 13 a 15 rientra in prima linea Paolovic e va al servizio per soglia nessuno ha protestato io avrei fischiata questa palla del palleggiatore comunque si continua a giocare sempre con un po' di concitazione ancora Gastaldo 14 a 15 adesso è il momento di ingranare la marcia giusta che l'Olimpia non può permettersi di inseguire per tutta la frazione di gioco ci aspettiamo il pareggio e poi il sorpasso riceve male intanto la Vesani bella però la diagonale di Sgro difende bene l'Olimpia adesso però la Vesani ha una free ball difesa ancora dell'Olimpia bene Gastaldo diagonale molto decisa 15 pari a gancio ancora ancora per soglia alla battuta e vediamo che Marchesini continua a dare indicazioni alla panchina Rigonat è sempre lì pronto ad entrare stavolta riceve bene poi sfrutta il primo tempo la Vesani che si porta sul 16 a 15 primo time out secondo time out tecnico squadra di nuovo in campo sul 15 a 16 a 16 a favore degli ospiti a Vesani Isola della Scala a Verona che adesso va a servire con Filippo Sgro che finora è stato il principale punto di riferimento in attacco ed anche il più importante realizzatore della squadra della provincia di Verona che adesso però ha sbagliato clamorosamente il servizio e quindi siamo di nuovo in parità 16 a 16 si gioca Clede si affida a Comians bello il suo mani è fuori 17 a 16 e l'Olimpia passa avanti in questo secondo set in battuta a Gastaldo ricezione facilissima sotto rete non si fa trovare plonto Paolovic mette la palla a terra di seconda intenzione il paleggiatore della provincia di Verona al servizio Luca Alberti 17 pari errore al servizio anche lui è il secondo consecutivo per la formazione di Verona siamo sul 18 a 17 ancora per l'Olimpia che adesso serve con Comians Marchesini dice a Vogrig di tenersi pronto probabilmente e si lo fa entrare in campo al posto di Comians per dare Manforte in ricezione Gastaldo escluso infatti dalla ricezione sul 18 pari riceve precisissimo Plesnizar bravo Terpin è lui Sandro mettere a terra la palla nei momenti che scottano se noi abbiamo una ricezione alquanto decente Filippo riesce a mettere buone palle per Terpin e lui riesce comodamente ad andare sopra il muro e mettere la palla a terra questo nei momenti difficili deve essere una palla scontata errore però errore che stavolta non ci voleva Paolovic manda out il servizio 19 pari stiamo continuando a tenere in gioco questi avversari che l'Olimpia invece avrebbe dovuto letteralmente asfaltare dopo il primo set buono alla ricezione di Vogrig ottimo il primo tempo di Persoglia 20 a 19 a favore della formazione di casa Capitan Clede al servizio ora l'Olimpia deve giocarsi questi ultimi palloni con la massima attenzione buona intanto la battuta non tiene in difesa Plesnizar era piazzato troppo dentro il campo e peccato per questo errore 20 a 20 per la Vesani in battuta Matteo Roncari si fa perdonare Plesnizar buona la sua ricezione ottimo Gastaldo che mette giù una bella parallela ci sono delle proteste viene contestata una presunta invasione cambio intanto nelle file dell'Olimpia rientra in campo Comians esce Vogrig che ha dato un apporto assolutamente importante in seconda linea siamo siamo sul 21 a 20 con Terpin alla battuta ricezione non buona della Vesani che si affida al solito sgro ma si pasticcia un po' in copertura stavolta il muro è staccato da rete intanto al mio fianco Sandro Corva si sta disperando per usare un eufemismo no siamo un po' disordinati a muro non sono palle che si possono murare non dico facilmente ma ci dovrebbero murare stiamo dando veramente una mano a restare in partita all'isola 21 a 21 Walter Ravelli per la Vesani al servizio riceve benissimo Terpin primo tempo con Persoglia che però non chiude Plesnizar bella e intelligente piazzata piazzatina di Gastaldo tra posto 4 e posto 3 22 a 21 esce 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 Persoglia nelle file dell'Olimpia e sostituito al servizio da Juren riceve bene però a Vesani muro vincente stavolta Filippo Sgro non passa Gastaldo lo ferma e siga il 23 a 21 a favore dell'Olimpia 23 a 21 ancora Juren imbattuta per l'Olimpia ancora bene al servizio Juren Mura all'Olimpia si rigioca a Vesani che si affida ancora a Sgro palla dentro così decide il direttore di gara 23 a 22 c'è un accenno così di contestazione ma tutto finisce lì Terpin ricezione Murato Gastaldo vantaggio vanificato siamo di nuovo in perfetta parità 23 a 23 questi sono palloni che scottano Marchesini preferisce chiamare time out scambi finali di questa seconda frazione di gioco situazione in perfetta parità tra l'Olimpia e Avesani Isola della Scala Verona Olimpia che si era giudicata il primo set 25 a 20 riceve bene adesso Terpin Clede va sul sicuro con Gastaldo non delude le aspettative l'opposto nonostante non sia in ottima forma mette giù il 24esimo punto 24 a 23 intanto Marchesini e Rigonat questo errore è brutto brutto questo errore 24 pari Gastaldo manda la palla fuori 24 pari non ci voleva Luca Alberti imbattuta per Lavesani riceve Terpin attacco dalla seconda linea non chiude però sbaglia sbaglia sgro chiedono il tocco i giocatori della provincia di Verona ma non c'è stato nessun tocco 25 a 24 Comians Mattia Comians alla battuta a lui il compito innanzitutto di non sbagliare è purtroppo un secondo un secondo secondo ero consecutivo in battuta 25 a 25 in un momento delicatissimo del match il pubblico qui si sta scaldando la sbossera è piuttosto nervosa Terpin continua a ricevere con grandissima lucidità pallonetto millimetrico per Yerney che non ne sbaglia una 26 a 25 un'altra occasione per chiudere il match Juren esce e rientra ovviamente per soglia in prima linea Dragan Paolovic al servizio Chlede chiede formazione è pronto però a entrare Rigonat che Marchesini sceglie di mandare in campo al posto di Paolovic il cambio non si può fare perché Marchesini aveva chiamato era stato chiamato solo un cambio e non due secondo cambio quindi gli viene negato gioco di nuovo interrotto non capiamo esattamente cosa sta succedendo no probabilmente Paolovic aveva già effettuato un cambio Marchesini aveva fatto un cambio con Paolovic e non se n'era ricordato 26 a 25 sì deve essere come dici tu Sandro 26 a 25 con Paolovic al servizio Dragan appoggia una palla facilissima vita facile per Sgro che trova un muro scomposto ancora parità 26 a 26 Andrea Carlino la battuta per Isola della Scala riceve Plesnizar palla a Terpil una sicurezza 27 a 26 ma lì è fuori per lui Glede alla battuta la Vesani chiede formazione ma è tutto a posto Glede appunto la battuta con l'Olimpia in vantaggio 27 a 26 attacco Murato di Slog su Sgro e l'Olimpia chiude 28 a 26 tutto il pubblico in piedi 2 a 0 favore dell'Olimpia l'Olimpia a l'Olimpia di Slog di Slog di Slog Grazie a tutti.